Noi abbiamo sempre detto che i metodi usati dal sindaco non sono stati quelli esatti, ci dovrebbe essere una corretta politica e condivisione delle idee e degli azzeramenti che si fanno. Questa è l'unica cosa che abbiamo detto e ripetuto al sindaco, vogliamo la condivisione sempre di tutta la maggioranza, tutti i consiglieri e molte volte questa cosa è mancata. Non si placano le tensioni all'interno dell'amministrazione comunale di Silvi guidata dal sindaco Andrea Scordella. Il movimento Idea guidato dall'ex vice sindaco Fabrizio Valloscura per ora non spinge per il rientro in giunta, ma la decisione sarà comunque presa a seguito di un incontro con il gruppo. Riporteremo le idee della base al nostro senatore Gaetano Guagliarello e decideremo il da farsi. Noi abbiamo sempre fatto così, siamo un gruppo molto democratico e se questa dovesse essere la decisione del gruppo sarà sì, se dovesse essere il contrario sarà no. Idea ad oggi non è fuori dalla maggioranza, anche se non ha ruoli in giunta e nei giorni scorsi ha provveduto a votare le opere triennali e le variazioni di bilancio. Ci si appresta anche ad andare verso il PNRR, ci sono queste elezioni provinciali, sarebbe veramente un peccato che Idea perdesse il consigliere che lo rappresenta, Beta Costantini, perché ha fatto anche un ottimo lavoro. Proprio sulle elezioni provinciali si soffermava all'oscura, chiedendo alle forze di maggioranza locali di appoggiare la candidatura della consigliera Beta Costantini. La vedo dura, questa volta è molto più difficile, noi stiamo facendo di tutto per cercare di confermare Beta, Beta ha fatto un ottimo lavoro, mi piacerebbe anche che i consiglieri di Silvi la appoggiassero.